Aceri campestri ma anche tigli, querce e noccioli, in tutto 800 le piante messe a dimora nel comune di Civitella in Valdichiana, in un'area di circa un ettaro in prossimità del centro abitato di Badia Alpino, dove sorgerà così un vero e proprio bosco. Si chiama infatti Mosaico Verde ed è un progetto di riforestazione sostenuto da Estra, in particolare Estra Energie. Chi compra energia da Estra ha la certezza che noi per quella parte di energia non rinnovabile che non possiamo avere nelle disponibilità, si compiono delle azioni compensative, piantando alberi e contribuendo al miglioramento del clima. Quindi chi compra energia da noi sa che pianteremo qualche albero in suo nome. La società ha seglato un accordo triennale con A0CO2 per l'avvio di un programma strutturato di compensazione delle emissioni di CO2 prodotte nella fase di combustione del gas metano venduto. A0CO2 supporta appunto enti pubblici e strutture private nella pianificazione di interventi di riqualificazione del territorio, proprio per far incontrare aziende che vogliono restituire valore ai territori e enti pubblici che si impegnano in qualche modo a inserire questo intervento in una strategia di adattamento e di pianificazione sui cambiamenti climatici. L'obiettivo, oltre all'aumento di copertura arborea, è quello di costituire una schermatura verde che migliori la qualità dell'aria e il paesaggio e riduca così l'inquinamento acustico. Qui svolgerà un bellissimo bosco parco che permetterà a tutti i nostri bambini, i nonni e i genitori di poter passare delle ore in questo nuovo polmone verde proprio nel centro abitato di Badialpino. Ritengo sia un'operazione importante fatta in partnership con l'azienda A0CO2 che ci ha redatto quello che è stato il nostro bilancio ambientale all'interno del progetto Patto dei Sindaci dove c'è un impegno forte del Comune di Civitella nella riduzione di CO2 nei prossimi anni. E importante è stato anche il contributo dell'azienda Estra che ha deciso di scegliere il Comune di Civitella nella provincia di Arezzo come territorio dove cominciare questo progetto mosaico verde. Grazie.